Come avete visto ragazzi il mio rapporto con la cucina diciamo che non è dei migliori è un po' equiparabile al mio rapporto che ho con le donne viaggiamo su due binari paralleli che non si incontreranno mai io vi invito quindi ad utilizzare le vostre piadelle toast nel minor tempo possibile utilizzando o la ricetta che ho utilizzato io, ovvero cotto e bri oppure svizzaritevi utilizzando la vostra fantasia Che vuoi? Ma che c'è? C'è pesato Però tu ce l'hai una casa, ce l'hai del cibo, sei pieno dei soldi Perché devi venire qua a mangiarmi tutto?